Il bordo d'attacco è una velocità massima a livello del mare di 1297, questa è una mirata a grande estrazione. La russa è una velocità massima a livello del mare di 1297, questa è una velocità massima a livello del mare di 1297, questa è una velocità massima a livello del mare di 1297. La russa è una velocità massima a livello del mare di 1297, questa è una velocità massima a livello del mare di 1297, questa è una velocità massima a livello del mare di 1297. La russa è una velocità massima a livello del mare di 1297, questa è una velocità massima a livello del mare di 1297, questa è una velocità massima a livello del mare di 1297. La russa è una velocità massima a livello del mare di 1297. E poi vedremo una particolarità, scordate il motore giallo del super, perché guardate la terrazza del super. Grazie per la visione!